E' risultata positiva al covid lo scorso 23 dicembre la consigliera comunale del comune di Castellabate Cristina Cardullo. Dopo 18 giorni, precisamente il 9 gennaio, ha ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asla di Salerno l'esito del tampone che ha confermato la negatività al virus. La consigliera comunale in questi lunghi 20 giorni di isolamento ha preferito il silenzio, ma ieri sera in un lungo post su Facebook ha spiegato le sue motivazioni. Dopo 20 giorni di isolamento fiduciario sono finalmente negativa. Mi scuso se in questo periodo ho evitato di scrivere post, messaggi e rifiutato di rilasciare interviste sulla mia positività, ma ho ritenuto che tutelare la privacy della mia famiglia fosse la priorità. E' stato un momento difficile perché oltre ad avermi provato e preoccupato mi ha fatto capire quanto ancora c'è da fare nella nostra società, sottolinea la consigliera Cardullo nel suo post. Ma come ha detto qualcuno, se i cosiddetti migliori di noi avessero il coraggio di sottovalutarsi almeno un po', viveremmo in un mondo infinitamente migliore. Ad oggi non sono sicura di poter affermare con certezza di aver superato tutto, ma dopo questa esperienza sono invece sicura di potervi chiedere di essere sempre responsabili. Nessuno di noi è immune ed anche una banale distrazione può complicare le cose. Vi assicuro che dall'inizio di questa pandemia ho sempre osservato tutte le regole previste soprattutto per proteggere le persone a me care e più fragili, ma non è bastato. Manteniamo sempre alta l'attenzione e rinunciamo a qualsiasi possibile occasione di rischio. Continuiamo insieme ma distanti ad essere responsabili. Auguro, conclude la consigliera, a tutti i miei concittadini una pronta guarigione e di superare serenamente questo periodo.